Questa regione e questa città sono ormai impossibilitati ad accogliere altri extracomunitari, altri rifugiati. Quindi il sindaco invece di parlare, che si occupi di fare, che prenda posizioni serie, che magari si incateni davanti alla prefettura, però che prenda una posizione seria. Tant'è che la serietà delle sue azioni poi corrispondono a restaurare una palazzina in viale 20 settembre per dare alloggio a queste persone. Arrivano questi rifugiati e hanno tutto quello che necessita, perché tra l'altro anche verranno messe a norma giustamente queste palazzine e quant'altro, però credo che questo sia ormai insopportabile per i nostri cittadini. Se in questa città ci fosse un'amministrazione, una giunta, un sindaco in grado di garantire i minimi servizi da quello dell'igiene, perché la città fa schifo, è sporca, chiaramente poi ci si potrebbe eventualmente accollare un discorso di accoglienza. Quindi è un discorso che riguarda sì la città, sì la regione, ma che riguarda tutto il paese. Allora qua credo che... Allora qua credo che... Allora qua credo che... Grazie a tutti.